All'ultima curva Fabio, fra poco Falaschi sul rettilineo conclusivo, a te il microfono per raccontare il suo trionfo. Fortuna, bravura, carattere, determinazione, ma è lui a vincere, Brian Falaschi! Siamo Italia Guerciotti, bravissimo, Brian Falaschi, che ha il 1991, lui è nato infatti il 21 maggio del 1991, segna il suo nome nell'albo d'oro qui a Brugherio, segna il suo nome nell'albo d'oro di quello che è il Giro d'Italia di Ciclocross, bravo Brian e rimane a disposizione del comitato.